È un testo che si avvicina allo spirito e alla lettera della Corte Costituzionale che da tre anni chiede al Parlamento di fare il suo dovere. Il fatto di essere arrivato in Aula è sicuramente un successo visto le difficoltà che abbiamo avuto in questi anni. Migliorabile perché naturalmente l'Aula può sempre svolgere e deve svolgere il suo dovere. Credo che ci sia la necessità di avere una legge all'interno del nostro ordinamento e non lasciare solo nelle mani dei giudici di scegliere e di decidere sulla base di situazioni particolari. Sarebbe paradossale che qualcuno avesse l'ambizione di farlo finire come il testo Zanna. Quello fu giudicato un testo che non aveva mediazioni. Quindi io credo che sia davvero un dovere del Parlamento invece di rispettare le richieste che la Corte Costituzionale ha fatto ai parlamentari.